ma di la verità non lo senti anche tu quel profumino di panettone nell'aria beh io lo sento ed è anche molto forte ma deve essere perché in realtà il panettone ce l'ho qua e non vede l'ora che io gli dia una bella morsicata ma naturalmente resisto perché non vedo l'ora di presentarti il video di oggi in cui ci faremo anche gli auguri di natale naturalmente ma soprattutto perché devo farlo in tempo per poter andare anche dal barbiere visto che la situazione sta diventando obiettivamente incontrollabile ma torniamo a noi e teniamo duro di che cosa parleremo parleremo di tre trucchetti molto ma molto interessanti che ho scoperto solo recentemente per migliorare ma di tanto 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 la nostra esperienza di uso quotidiana con google chrome e allora cosa stiamo qui a perdere tempo tuffiamoci a capofitto nell'argomento del giorno e soprattutto se ti senti pronto iniziamo a dirti la verità avevo pensato di iniziare questo video di oggi scrivendo insieme una bella letterina a babbo natale confidandogli tutti i nostri desideri per l'anno prossimo ma poi ho realizzato che non è babbo natale la persona più adatta a cui indirizzare questa letterina ma piuttosto sarebbe lo zio bill se non fosse che ormai lo conosciamo e sappiamo bene che lo zio bill fa comunque di testa sua ci vuole bene ma è un pochino bizzoso e allora tutto quello che posso dirti è che anche nell'anno prossimo ti prometto che saremo tutti pronti a porre rimedio nel caso ad eventuali sue malefatte ma invece c'è qualcun altro che ultimamente incrocio le dita mentre lo dico sembra essere diventato un pochino più ragionevole forse perché si è abituato ad essere blandito dal nostro consueto rituale apotropaico e queste naturalmente sono le nostre amiche divinità del tubo a cui oltre che il rituale di oggi rivolgiamo tutti quanti i nostri auguri disclaimer i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo andiamo avanti va oh e finalmente eccoci arrivati al nocciolo del nostro video ovvero l'argomento del giorno e cioè tre strumenti che ho scoperto molto recentemente e che sono in grado di migliorare notevolmente la vita digitale penso di qualsiasi utente di google chrome e allora andiamo a vederli e naturalmente per farlo non solo apriamo come sempre il nostro google chrome ma come di consueto nel motore di ricerca andiamo a digitare gentiluomo digitale effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento o è cambiata la grafica di google e facciamo riferimento dicevo al primo risultato ovvero quello relativo al dominio gentiluomodigitale.it clicchiamo per aprire la nostra pagina e una volta che si sarà aperta ci porteremo qui in alto nella sezione che si chiama downloads una volta aperta la nostra pagina tutto quello che faremo sarà scendere un pochettino fino ad individuare questo magico terzetto formato da volume master text blaze e turn off the lights si tratta di tre estensioni per google chrome ma sono disponibili naturalmente per tutti quanti i chromium e quindi edge opera e così via ed anche per firefox l'unica accortezza se utilizzi firefox sarà che dovrai utilizzare la ricerca di google per andare a trovarle perché queste sono solo ed esclusivamente per tutti quanti i chromium clicchiamo su volume master e andiamo a vedere che cosa fa la prima di queste estensioni eccola qua quello che dobbiamo fare in questa pagina è semplicemente un click sul pulsante add to chrome per aggiungere la nostra estensione a chrome dopo aver confermato con il pulsante aggiunge estensione che vogliamo farlo ecco fatto la nostra estensione è stata aggiunta a google chrome ma come vedi scompare immediatamente nascosta dentro questo pezzetto di puzzle qui quello che ti consiglio di fare in questo caso è di fare un piccolo click su questo pulsantino che si chiama blocca quello a forma di puntina per mostrarla all'esterno perché come vedremo tra un attimo ci sarà molto ma molto utile ma per fartela vedere bene ti vado ad aprire un paio di schede che riproducono anche dell'audio ed eccoci qui con tre schede aperte sul nostro browser la prima è la nostra pagina dei download mentre la seconda e la terza sono altri due video presenti sul nostro canale se guardi con attenzione il badge della nostra estensione ti accorgerai che in basso a destra è riportato un numero zero e questo perché ho attribuito singolarmente il volume di ognuna di queste schede a zero pur avendo anche abbassato notevolmente per un motivo che capirai tra un attimo il volume stesso di youtube non è proprio a zero è impostato al minimo si sentirebbe molto basso anche se regolassimo il volume di questa scheda al 100% ok come vedi ho innanzitutto la possibilità di regolare singolarmente il volume di ciascuna delle schede grazie a questa estensione che già è una cosa che io personalmente trovo comodissima ma non è tutto la seconda possibilità che ha questa estensione è di amplificare il volume nel caso in cui come ho simulato in questo momento abbassando il volume di youtube su un computer non si riuscisse a sentire bene l'audio questa è una cosa classica di alcuni portatili anche se lo mettiamo al massimo ebbene questa estensione ha il volume che come vedi non si ferma al 100% ma ha la possibilità di una ulteriore amplificazione fino al 600% si hai sentito bene fino al 600% andiamo subito a fare una prova è uscito il mio video e quindi tutti coloro i quali avevano dei pc che non avevano i requisiti minimi questo è il volume al 600% e questo sarebbe il nostro volume invece al 100% praticamente non udibile però quello che invece sento molto forte è il profumo del panettù cerchiamo di resistere e passiamo alla nostra seconda estensione quella che si chiama textblaze per installarla facciamo clic naturalmente sul secondo pulsante nuovamente clicchiamo sul pulsante add to chrome confermiamo con aggiungi estensione di volerla installare ed in breve tempo verrà installata sul nostro pc ma che cosa ci consente di fare questa estensione? ebbene, io la trovo di una comodità infinita perché mi fa risparmiare un sacco di tempo ogni volta che, ad esempio, quando digito un'email oppure quando sto scrivendo un documento devo scrivere delle frasi ripetitive mi dà infatti la possibilità come vedi in questi esempi qui dopo uno slash di aggiungere una piccola sigla una cosa che noi ci ricordiamo facilmente che inserisce un testo di nostra scelta e quindi se ad esempio ogni volta quando iniziamo un'email scriviamo distinto signor tizio caio ho il piacere di informarla che e questa è una cosa che siamo costretti a riscrivere ogni volta ci basterà ad esempio scrivere barra dist dopo averlo ovviamente impostato nell'estensione per poter ottenere questo risultato andiamo a fare una prova eccoci qui la prima cosa che andremo a fare è un clic sul nostro tassello di puzzle dopodiché cliccheremo su text blaze, templates, eccetera si aprirà questa piccola estensione noi faremo clic su go to dashboard come puoi vedere ho fatto un pochino di pulizia dei vari snippet gli snippet sono queste abbreviazioni che utilizziamo e ne ho messe due personalizzate da me la prima si chiama egregio si abbrevia con barra egg la seconda si chiama carissimo e si abbrevia con barra car ma come si fa innanzitutto da un lato a fare pulizia e dall'altro a creare uno snippet come lo vogliamo noi te lo faccio vedere immediatamente per fare pulizia se volessimo cancellare questo carissimo ci basterà andare aspetta che tolgo il mio grazioso faccino in modo da non occluderti la visuale qui in basso a destra dove c'è questo bidoncino della spazzatura e dopo aver selezionato con un clic l'estensione o meglio lo snippet che vogliamo cancellare cliccheremo sul pulsantino confermiamo con move to trash di volerla cancellare e lo snippet scomparirà per creare un nuovo snippet la procedura è altrettanto facile andremo qui in alto a sinistra cliccheremo sul più daremo un nuovo nome al nostro snippet ad esempio carissimo anche in questo caso va bene lasciamo perdere avevo le maiuscole inserite ma ci facciamo andare bene così e sceglieremo l'abbreviazione che vogliamo usare in questo caso non voglio utilizzare slash do ma voglio usare ad esempio slash car come carissimo appunto vado a scrivere un testo qualunque è molto disagiavole scrivere perché ho la tastiera esattamente dietro al microfono allungo un pochino questo testo in maniera da farti vedere che puoi scrivere letteralmente quando vuoi quanto vuoi oggi è scirocco e alla fine ci basterà semplicemente smettere di scrivere e automaticamente lo snippet sarà già salvato abbiamo quindi a questo punto ricapitolando due snippet il primo si chiama egregio ed è abbreviato con egg e scrive egregio signor poi noi ci mettiamo il nome di volta in volta sono lieto di informarla che bla 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 e il secondo invece si chiama carissimo abbreviato con slash car e va a scrivere carissimo bla 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 a questo punto facciamo subito una prova e per farlo apriamo una nostra gmail qualsiasi e andiamo a comporre una nuova lettera andremo a scrivere questa lettera a un destinatario fittizio qualunque ci metteremo come soggetto quello che vogliamo ciao in questo caso e proviamo a scrivere ad esempio barra egg come egregio barra egg e immediatamente ci sono dei fuochi d'artificio e il nostro testo viene automaticamente aggiunto naturalmente al posto di questo oppure continuando potremo scrivere anche barra car e nel momento in cui scriviamo anche barra car abbiamo sia egregio che carissimo che sono stati scritti uno di fila all'altro insomma una comodità incredibile se come me ti trovi nella condizione di dover scrivere spesso dei testi ripetitivi non ti nascondo che qualche volta la uso per scrivere automaticamente i saluti anche nei commenti dei video di youtube però c'è odore di panettone panettone mai provocato e io me te magno e perdonami la carne è debole lo sappiamo tutti ma questo almeno mi ha messo in forze per rappresentarti la terza estensione del giorno ovvero quella che si chiama turn off the lights clicchiamo sul relativo pulsantino nella nostra pagina download eseguiamo la stessa tiritera che abbiamo fatto per le altre due per andare ad installarla e quindi un bel clicchettone su add to chrome e una confermona su aggiungi estensione attendiamo qualche secondo e l'estensione viene installata sul nostro google chrome andiamo a chiudere le due pagine che si sono aperte perché non ci interessano minimamente e se mi dai un secondo mi metto in condizione di mostrarti al meglio che cosa può fare per te questa estensione ed eccoci qua la prima cosa che ti suggerisco assolutamente di fare è andare sul nostro solito pulsantino quello a forma di tessera di puzzle individuare la nostra estensione che ti ricordo si chiama turn off the lights e metterla in evidenza con la solita puntina eccola qua questo è importantissimo perché è opportuno averla sempre a portata di mano come vedrai tra un attimo ma a cosa serve questa estensione? ebbene è un'estensione studiata appositamente per massimizzare la concentrazione quando si guarda ad esempio un video di youtube ma io la uso tantissimo e ti garantisco che per quanto banale mi ha cambiato la vita quando seguo dei corsi tenuti naturalmente da qualcun altro su youtube se infatti andiamo ad aprire un video magari mettiamo a zero il volume in modo che non ci disturbi abbiamo la possibilità di fare un click su questa lampadina che spegne la luce come dice il nome stesso guarda cosa succede sostanzialmente mette in secondo piano tutto il resto tutto quello che ci potrebbe distrarre dal nostro video scusami e lascia in evidenza solo il video tutto il resto viene oscurato e noi abbiamo la possibilità di concentrarci al 100% su quello che stiamo guardando io la trovo incredibilmente utile praticamente una droga non so più farne a meno ok tra un panettone e un barriere siamo arrivati praticamente alla fine di questo video ma ti prego non andar via sai che non lo dico mai ma questa volta è veramente importante innanzitutto perché voglio dirti che dall'inizio dell'anno prossimo stiamo preparando delle sorprese per te che sono certo ti faranno un immenso piacere e quando dico stiamo preparando alludo a delle persone che non vedi nei video ma che sono fondamentali per questa community e che ho incontrato durante il mio percorso youtubesco sto parlando naturalmente degli impagabili moderatori del forum e della chat che ci tengo a ringraziare uno per uno nelle persone di Red Joe Chili Peppers che trovi anche come i peperoncini di Joe mi raccomando vai a guardare il suo canale e vai anche a guardare il canale di Chris si chiama Tecnomaniaci ci tengo però anche a ringraziare chi un canale YouTube non lo usa tanto come ad esempio Andrea Paruolo come il nostro piccolo grande Ghost e tutte quante le new entry a partire dal multi peppino 92 miticissimo proseguendo con Darkness e Mars che si sono appena giunti e che non avevo ancora avuto l'occasione di ringraziare personalmente per il loro preziosissimo lavoro e per il loro apporto a questa community ma passando a dei ringraziamenti un pochino più tradizionali ci tengo a ringraziare anche video emozioni StormX, Nicola Tirelli, Sandro Livieri, Luca Tentoni, Antonio Nabais Pires che si sono abbonati oppure hanno rinnovato il loro abbonamento al nostro canale ma anche Giuliano Pelacci, Mario Piergiulio e Giulio Civardi che sì, si sono abbonati ma lo hanno fatto in qualità di distinti gentiluomini e quindi carissimi è un mio piacere, onore e privilegio togliermi ancora una volta il mio cilindro farlocco davanti a voi e non abbiamo finito perché ci tengo a ringraziare Fabrizio Pellegrini, Tux1979, Cesare Iannotti e Giorgio B per i loro generosissimi supergrazie con i quali anche loro hanno voluto portare il loro piccolo mattoncino per il proseguimento della vita sana di questa community ma prima di passare a quell'ultimo ringraziamento che già ti aspetti ci tenevo a dirti semplicemente due parole Buon Natale e quindi grazie anche a te che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti ti preannuncio che i video in questi giorni potrebbero essere un pochino intermittenti ma mi perdonerai perché insomma le festività fanno la loro ma sicuramente ci sarò anche durante tutte quante le feste di Natale anzi l'appuntamento più importante sarà con il video di fine anno e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima Buon Natale